Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video dedicato a Minecraft. Oggi andremo a vedere le novità della snapshot 14v17a. Finalmente dopo ben 6 settimane la Mojang ha rilasciato una nuova snapshot. Il motivo di questa lunga attesa è dovuto a diversi motivi. Nel mese di marzo la Mojang ha partecipato alla Game Developers Conference tenutasi a San Francisco e inoltre ha rilasciato diversi aggiornamenti alla versione 1.7. L'ultimo risale all'inizio di aprile e riguarda la 1.7.9. Il motivo di questi aggiornamenti, oltre alla correzione di bug, è stato quello di introdurre le basi per l'implementazione di una delle funzioni più richieste dalla community, e cioè la possibilità di modificare il proprio nome in-game. Questa funzione sarà disponibile a partire dalla versione 1.8 che, stando alle ultime notizie, potrebbe arrivare nel mese di maggio. Ma veniamo ora alle corpose novità della nuova snapshot. A partire da questa snapshot sono stati aggiunti dei bordi al mondo, cioè delle barriere che impediscono al giocatore e ai mob di oltrepassare questi confini. Se questo dovesse accadere per effetto, per esempio, di un teletrasporto, il giocatore inizierebbe a prendere danno fino a morire, un po' come succede quando finiamo nel vuoto. La cosa interessante è che questi confini, che normalmente sono settati a 60 milioni di blocchi, si possono modificare. Il comando per farlo è world border e si può usare in due modi. Il primo è world border seguito dalla parola chiave center e seguito da due coordinate, in questo caso 0 150, che ci permette di settare il centro del nostro bordo. Ho scelto 0 150 perché è un punto vicino a dove mi trovo in questo momento. Andiamo ad eseguire questo comando. Il secondo comando invece è world border seguito dalla parola chiave set e da un numero. Io ora scelgo 200. Questo ci permette di impostare la lunghezza del bordo a 200 blocchi. Quindi, a partire dal centro che abbiamo settato prima, avremo 100 blocchi in ogni direzione. La forma di questo bordo per il momento è quadrata, ma è possibile che la Mojang possa aggiungere altre forme in futuro. Ora proviamo ad eseguire questo comando. Ecco qua. E ora andiamo a vedere come si presenta il nostro bordo. Andiamo più avanti. 200 blocchi. Ecco, come vedete qua, perfetto, abbiamo il nostro bordo. Come vedete si presenta con questa texture che è anche animata e a questo punto vediamo che il nostro giocatore, come vedete, non può oltrepassare questo bordo. Andiamo nell'altro angolo del bordo, un po' più avanti. Eccolo qua. Qui ci troviamo proprio nell'angolo. Ecco qua. Ora qui sono leggermente uscito, ma comunque non è possibile oltrepassarlo. Il comando world border, seguito dalla parola chiave set, ha anche un secondo parametro che ci permette di impostare il numero di secondi che il bordo impiega per raggiungere una data dimensione. Per farvi un esempio, ora ho impostato un bordo a 50 blocchi e ora andrò a modificarlo a 100 blocchi nel tempo di 15 secondi. Per fare questo dobbiamo usare appunto il comando world border set 100 seguito dal numero di secondi 15. Andiamo ad eseguire il comando e vediamo cosa accade. Ecco qua, come vedete, il bordo ha cambiato colore e piano piano si sta ingrandendo. Vediamo ora quando raggiungerà i 100 blocchi di dimensione. Ecco qua. Ancora qualche istante ed ecco qua è arrivato a 100 blocchi. Una delle novità di questa snapshot riguarda l'endermite, un mob che è stato introdotto qualche snapshot fa. Per il momento questo mob rimane ancora un work in progress. Infatti in questa snapshot è stato modificato solo il suo aspetto, ma non sono state modificate le sue caratteristiche che sicuramente verranno riviste nelle prossime snapshot. Una delle novità di questa snapshot riguarda la possibilità di modificare l'ordine con cui vengono visualizzati i server nella schermata multiplayer. Per farlo, come succede nei resource pack, dovete andare sull'icona e cliccare su queste frecce verso l'alto o verso il basso. Una delle novità riguarda l'aggiunta della game rule random tick speed, che vi permette di modificare per esempio la velocità con cui le piante crescono, i pigmen zombie spawnano dai portali o quanto crescono i semi delle vostre piantagioni. Attenzione che aumentare molto questo valore potrebbe influire sulle performance di gioco. In questa snapshot è stato completato il lavoro riguardante la visualizzazione degli attributi dei blocchi che vengono puntati con il mouse quando viene premuto il tasto F3 sulla tastiera. Inoltre ci sono stati dei miglioramenti sul formato dei vari modelli dei blocchi. Questa novità è molto specifica e complessa, pertanto se siete interessati ad approfondire vi rimando come sempre al Minecraft Wiki linkato nella descrizione di questo video. La Mojang in questa snapshot ha deciso di rimuovere le novità riguardanti Minecraft, velocità aumentata e possibilità di deragliare, che avevamo visto nella snapshot precedente, probabilmente perché al momento davano molti problemi. Vedremo se in futuro verranno sistemate le cose e quindi reintrodotte le novità. Veniamo ora alla novità più corposa di questa snapshot, la possibilità di modificare moltissimi parametri per la generazione di nuovi mondi. Quando creiamo un nuovo mondo e clicchiamo sul pulsante More World Option, oltre al tipo di mondo Default, Super Piatto, Large Biomes e Amplified, è stata aggiunta una nuova opzione chiamata Customized. Si è aggiunto anche quest'altro pulsante che ci permette di entrare in un menu fatto da ben quattro schermate, che ora andremo a vedere una per una. La prima schermata comprende delle impostazioni di base, qui possiamo decidere a quale altezza avere il mare, abilitare o disabilitare la generazione di caverne, villaggi, templi, laghi e così via, e di modificarne anche la quantità o la dimensione. Inoltre è possibile scegliere se nel mondo potremmo trovare tutti i biome oppure solo uno di essi. Come vedete in basso ci sono dei pulsanti. Concentriamoci ora sul pulsante Randomize, che ci permette di rendere casuali queste scelte. Passiamo ora alla seconda schermata. In questa schermata possiamo modificare la presenza e la quantità dei vari materiali. Per ciascuno di essi possiamo impostare la profondità minima e massima a cui possiamo trovarli, la loro rarità e la quantità massima presente nei vari filoni. Anche qui possiamo utilizzare il pulsante Randomize per rendere casuali le scelte, o il pulsante Defaults per tornare ai valori predefiniti. Le prossime due schermate contengono dei parametri per utenti esperti. Questi parametri modificano il modo in cui l'algoritmo genera i vari mondi. Modificando i vari parametri è possibile per esempio ottenere dei mondi con montagne altissime e a picco sul mare, oppure ottenere solo delle piccole e dolci colline. Il significato dei vari parametri alla maggior parte risulterà piuttosto scuro. Pertanto vi invito a fare degli esperimenti modificando i vari parametri per vedere quali risultati si possono ottenere. Data l'enorme quantità di parametri a disposizione, la Mojang ci viene incontro con dei preset, cioè una serie di parametri predefiniti per creare mondi particolari. Questo non significa che utilizzando questi preset otterremo sempre lo stesso mondo, perché come sempre questo è determinato dal seed, ma otterremo dei mondi con caratteristiche simili. Per esempio, con questo preset avremo mondi prevalentemente composti d'acqua, con quest'altro potremo avere dei mondi con montagne scoscese, e così via, fino ad arrivare a questo pericolosissimo preset che crea dei mondi con oceani fatti solamente di lava. In alto, come vedete, è presente questo spazio che contiene una lunga stringa, che in pratica riassume tutti i parametri usati in questo preset. In questo modo, come succede per i mondi super piatti, possiamo salvare le varie impostazioni per poterle utilizzare in un secondo momento. Ma andiamo ora a vedere qualche esempio di mondo creato con i vari preset. E partiamo con questo primo preset chiamato Mountain Madness, che crea dei mondi con delle montagne veramente impressionanti. Guardate qui che roba! Ci sono delle cascate fantastiche, qui a fianco ce n'è una che arriva da là in alto, e sia d'acqua sia di lava come là in fondo, e devo dire che è veramente un mondo affascinante. Va detto però che per poter gestire questi mondi così particolari dovete disporre di un pc piuttosto potente, perché sono abbastanza pesanti. Ma passiamo quindi a un altro preset. Quest'altro preset invece va a creare delle incredibili isole volanti. Guardate qui ci sono delle vere e proprie porzioni di mondo che sono sospese nel vuoto. Veramente impressionante anche quest'altro preset. Quest'altro preset invece va a creare dei mondi prevalentemente aridi. Come vedete qui c'è un pochino d'acqua. Immagino che questo dovesse essere il letto di un fiume, dato che ha un fondale prevalentemente fatto di terra, e devo dire che anche questo è un mondo piuttosto interessante. E passiamo a quest'ultimo preset che va a creare dei mondi fatti prevalentemente di caverne molto buie. Guardate qui ragazzi che caverne giganti che si vanno a creare. Mi immagino solo la quantità di mob che potrebbero spawnare in queste zone così buie. Veramente impressionante anche questo preset. proviamo ad andare qui sotto. Sarà anche difficile vedere. Vediamo un po'. Guardate qui che roba. Qui c'è un buco. E finisce sotto questa montagna che è completamente buia. Ragazzi veramente impressionante. Bene spero di avervi spiegato più o meno nel dettaglio il funzionamento di questa nuova opzione introdotta in questa snapshot. Devo dire che la Mojang si è superata con queste nuove opzioni perché in questo modo potremo creare veramente un'infinità di mondi incredibili. Io ho passato un po' di tempo facendo un po' di prove anche semplicemente utilizzando il tasto randomize e ho veramente creato dei mondi che mi hanno strabiliato ogni volta. Bene e anche oggi siamo giunti al termine di questo video. Come sempre vi ricordo che potete contattarmi per farmi delle domande attraverso i commenti di questo video, la mia pagina facebook o il mio profilo twitter, entrambe linkati nella pagina principale del mio canale. A questo punto non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!